Don Antonio Domenech è stato per ben 12 anni il consigliere per la pastorale giovanile e dopo 12 anni più, perché è rimasto finora qui a casa, alla Casa Generalizia, rientra finalmente in Ispettoria. Io ti voglio ringraziare molto Antonio perché oltre alla tua grande dedizione ha reso una testimonianza incredibile, da tre anni e mezzo lotta contro un tumore, devo dire non soltanto che non ha fatto pensare sugli altri assolutamente la sua malattia, l'ha saputo affrontare con un grande coraggio, non soltanto con un senso di amore alla vita, ma soprattutto con una grande fede. Durante il capitolo generale, anche se doveva andare a fare la chemioterapia, riceveva i documenti, faceva osservazioni e continuava a lavorare come qualsiasi di noi. Ti voglio dire tutto il mio grazie da parte del Consiglio Generale della Congregazione della Famiglia Salesiana per 12 anni che sono stati molto fecondi. Grazie. Grazie.